Comune di Piacenza e associazioni di volontariato di protezione civile rinnovano il loro legame ormai ultradecennale per continuare a collaborare insieme ed intervenire nelle diverse emergenze della nostra provincia. Il sindaco ha riconosciuto l'alto valore di queste associazioni che hanno dimostrato negli anni competenze e spirito di solidarietà nel presidio del nostro territorio. Una convenzione che per noi costituisce un modo anche per essere consapevoli dell'alto valore delle associazioni di volontariato che a Piacenza credo che abbiano in modo particolare manifestato un grado anche di competenze e di professionalità non indifferenti nel presidio del territorio e nel sostegno ad attività molto vicine ai bisogni della comunità. Un appuntamento consolidato ormai ultradecennale. Negli anni si è sempre migliorata, questa convenzione ormai è consolidata e quindi è un piacere ancora poter servire anche per questi prossimi anni al Comune di Piacenza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.